Sono Pia Naum, direttore commerciale della Claypachi, sono qui per parlarvi di un evento simpaticissimo che abbiamo organizzato qui a Roma, Illuminando le Star, una conferenza con Patrick Woodruff, un evento che come questo non è mai stato fatto in Italia, la testimonianza di una dei light designer più importanti del mondo che ha portato qui in questa conferenza le sue esperienze di oltre 30 anni di lavoro e soprattutto le due interessantissime storie del concerto che non è mai avvenuto di Michael Jackson e della programmazione luce dei giochi olimpici di Londra 2012. Entrambi gli eventi hanno visto un'importante presentazione di Claypachi, ma questo non è il motivo principale per cui abbiamo fatto questa conferenza, l'abbiamo fatta perché esiste un enorme interesse per la luce, per la luce del mondo dello spettacolo e tutti gli addetti al lavoro hanno sicuramente apprezzato un evento di questo prestigio.